Buongiorno a tutti, voglio salutare e ringraziare il Presidente Sangalli e tutta la Confcommercio per aver promosso questa iniziativa dedicata al contributo del settore privato italiano al Piano Mattei per l'Africa. Sono molto felice che il tessuto produttivo e economico di questa nazione abbia compreso fin dall'inizio l'importanza e la strategicità della sfida che il Governo ha lanciato con l'iniziativa del Piano Mattei. Questo è un elemento molto prezioso perché se il Piano Mattei sarà un successo e riuscirà davvero a costruire quel nuovo modello di cooperazione e sviluppo con le nazioni africane che abbiamo in mente, molto dipenderà dal contributo delle nostre imprese, dalla possibilità di mettere le loro energie e la loro concretezza al servizio di questa iniziativa. Perché ciò che distingue il Piano Mattei da tutte le altre iniziative del passato è proprio la sua concretezza. Noi non abbiamo scritto un elenco di buone intenzioni, di dichiarazioni di principio, abbiamo scritto un piano di obiettivi fattibili, realizzabili e accompagnato da un cronoprogramma ben delineato. Non avremmo potuto affrontare da soli questa sfida, chiaramente. Per questo, quando abbiamo costruito la governance del Piano, abbiamo deciso di coinvolgere nella cabina di regia una rappresentanza del sistema Italia molto ampia e articolata. Grazie. Grazie.